Oh, ma fai delle, cioè, delle, delle whip, delle situazioni, eh? Potrei fare un volo, quindi riprendi. Ah, allora ti riprendo, vai. Ma sì, ma c'è dei pezzi da fare del manual. Questa serra del cazzo. Vai. E ora molla. Qui c'è stata una festa di compleanno. Guarda là, guarda là, ago di pino e via. Lì là. Oh, così è aggressivo, eh? Meno male c'è. Ah no, Davide. Meno male c'è il bugio lì. Si fa. Io senti, 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 io senti. Io senti, 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 io senti Grazie a tutti.